benvenuti nelle stanze della terra seconda tappa del percorso laudato si si tratta di una installazione diffusa che su una superficie di circa 3 ettari invita ad attivare i nostri sensi nell'esplorazione della biodiversità locale addentrandoci nelle stanze della terra attraverseremo il frutteto catalogo la segna di alberi da frutto tipici dell'area mediterranea potremo mettere alla prova tatto e odorato presso le vasche della cura dove impariamo a riconoscere erbe e piante officinali esploreremo i giardini mediterranei che prendono forma all'interno dei petali di un gigantesco fiore e l'affascinante orto sinergico che valorizza la capacità del terreno di auto fertilizzarsi senza alcuna lavorazione del suolo ma affidandosi alla cooperazione delle piante qui ad ecolandia sperimentiamo delle pratiche culturali attente agli equilibri naturali e a preservare le specie locali affinché possano goderne anche le nuove generazioni